Quest'anno, come tradizione, il sabato dopo l'ascensione, siamo qui al mulino con i pianti in funzione. Anche quest'anno con un gruppo di volontari siamo riusciti a organizzare questa festa dei mulini nell'ambito dei mulini svizzeri. Quest'anno con un nuovo comitato, purtroppo Gian Pietro Crameri, che da 25 anni ha guidato il mulino, quest'anno ha deciso di mollare e dedicarsi ad altre attività. E noi abbiamo comunque tentato, nel solco della tradizione, di mantenere questa bella tradizione. Abbiamo organizzato, oltre che all'apertura del mulino, della cucina e della segheria, anche un pranzo in compagnia per tutti quelli che vorranno venire a visitarci. Di regola il pranzo è costituito da prodotti derivanti dal grano saraceno. Quest'anno abbiamo i ravioli, una novità, al grano saraceno che speriamo vengano apprezzati. Con questo intendo ringraziare tutti quelli che vorranno sostenerci, quelli che ci sostengono all'interno del comitato con tante ore di volontariato, quelli che aiutano al di cuore del comitato e tutta la popolazione che ci ha sempre sostenuto e che spero si sosterrà anche in futuro. Grazie. 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 Grazie.